Uuuh Probabilmente Uuuuh No, 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 no Eeeh, vabbè, ma io non ce la faccio Ragazzi, vi ricordo che se volete supportarmi Potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporto a un creatore Inserire il codice creatore porto Così come vedete a schermo Poi accettare E da ora ogni acquisto che farete Mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ciao a tutti ragazzi qui a FortiMer che parla E benvenuti in un nuovo video su Fortnite Eeeh, ragazzi, lo avete letto dal titolo Ho utilizzato i cheat Softame, aimbot, qualunque cosa vi venga in mente Stavo facendo una live streaming Sul sito Viola dove streamo molto spesso Infatti se anche voi volete seguirmi Andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziate a farlo perché stasera saremo in live Eeeh, un ragazzo mi ha accusato di utilizzare i cheat Perché avevo una mira fin troppo precisa Ma forse dimenticava che io giocavo da console Ragazzi, per questo video vi chiedo almeno 2000 like Perché, veramente, vi farete un botto di risate E poi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno Io vi lascio al game E' la gente che incontro che sta fissa così Cioè, non lo so, chiunque incontro C'ha sempre 200 di vita e una quantità di cura infinita Perciò mi incazzo Perché non è proprio un fight equo Non è mai equo Ma stavo finendo i materiali Perché me le dovevo gestire due E stavo anche a morire in generale Proprio per una questione di safe Se non modifica non mi vede Che schifo Che schifo che ho fatto Mamma mia Oh, 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 oh Bravo Ma ti è andata male Però hanno già levato Il fatto che può andare sotto la sabbia Perché già l'hanno buggato, mi pare C'è già Oh, oh, oh Bot, bot Bravissima, raga Ma la sono gestita abbastanza male In realtà Questo si poteva eliminare Molto, molto più easy Lo fai in fretta Principalmente per la safe Che sta arrivando Perché altrimenti qua ci muoio Prendi, prendi Prendi, prendi Non ho dato manco il tempo di guardarmi Ma what? Ma questo mo' si blocca Sicuro No Ma lo sapevo Madonna di dio L'unico essere Vivente A cui si blocca così Mi stanno mirando Tutti e tre di nuovo Materiali Va benissimo Scambio molto ego Per quanto mi riguarda Spari? No, costruisce Dove? Giù Adesso mi ha mossa Rinforzare Mi hanno sparato entrambi Mi hanno sparato entrambi Mi sono bloccato Perché mi stavano sparando entrambi Non ha materiali Non ha cure Non aveva materiali Ah no Ce l'aveva le cure Ah sta là Ok Dai ma la posso perdere Ok Non può più cadere Posso farmi il giro sull'albero? No Un bici Un bici Succolento Leggiadro Come una volpe Aspettate un attimo Perché sto palazzo È sempre complicato Aspettate un attimo Calmi Sbagliato Sbagliato Sono morto Sono morto Letteralmente Morto No Madonna Di Dio Stavo a morire Un altro La terra Ci volevano Che lì Ma quando si è rubato Quella tua roba Oh È roba però Se paga Aimbot Aimbot ragazzi Levo i cheat Ragazzi Levo i cheat Questo è proprio Aimbot Godo tantissimo Mi è finito Pure il caricatore In quel momento preciso Questi veramente Mi segnalano Secondo me Ok ma di sentire Le hack Godo Bravo 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 Molto bravo È stato molto veloce Nel reagire Io lento Nel Fermi Quindi Ma no Eh dai Eh dai Eh dai Dai Porto 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 Ok 6 kill Non sono male Sincere Molto politica Solo che dovremmo vedere Se c'è altra gente a pinnacoli Se riusciamo a trovare Armi migliori Ci saranno altre live su Demon Sul sa ragazzi Io vorrei portarne Non vi voglio Assicurare E smentire nulla Quando avrò una mia PS5 però Probabilmente Uh Eh vabbè Vabbè ragazzi Vabbè 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 Ragazzi Avete ragione Modo disattivo Modo disattivo Troppo Troppo aimbot in un game Fermati Volevo ripartire da 200 di vita No Lo stavo chiudendo Ah Boys Questa m'ha bucato Per esempio Però si così Buggate Li dovrebbero sbaggare Con tutto il bene Io prima mi sono sfondato A terra Qua non c'è nessuno Secondo me Uh Uff Mamma mia signori Ma questo è imbotto oggi Questo è imbotto oggi Questo è imbotto oggi Signori Ma io lo devo disattivare Madonna No 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 Pericolo No 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 Troppo veloce Non lo capisco Non lo stocca Ma che Bobbuffet Questa arma fa cacare Comunque Non ho ancora capito Bene il suo funzionamento Ma so che fa cacare Mi basta sapere questo Forto le hack Però avete ragione Ragamo le disattivo Un po' troppo Un po' troppo A un certo punto Signori di Epic Games Mi avete sgamato Tra l'altro Io ora ho l'effetto Se del peperone Che di sto coso Cioè sono Una persona più veloce Sulla faccia della terra Credo Così la safe Non mi beccherà mai No Vabbè morti 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 Uno dei due Muore sicuro Ma sicuro come La fortuna morte Infatti No 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 Devo entrare Devo entrare A qualunque costo A qualunque costo Mamma mia Era morto Perciò dovevo entrare Anch'io ora No ho lasciato Ho lasciato lo scar C'è sbaglio Ho sbagliato Ho sbagliato Sono morto Mamma mia No Ancora altra gente Basta Basta Mi prego Mi prego Lasciatemi stare Vabbè Buon Cazzo No 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 E vabbè Ma io non ce la faccio più Ok Non è stata una mostra intelligente No 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 Ragazzi guardate il ping Guardate il ping Guardate il ping No Ping 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 Stai sotto Stai sotto Non ti permettere Muori Madonna mia Ma che cosa è successo Volevo fare 15 kill Va bene Come titolo Metto i fan Hanno scoperto che io uso i cheat Beh ragazzi Credo che abbiate capito Che in realtà Non stavo Realmente utilizzando I cheat Era semplicemente Un po' di Mira e fortuna Messi assieme Però era divertente Comunque pubblicarlo Perché in chat Era veramente Scoppiato il panico Quando hanno visto Quelle cose Se anche voi Volete aggiungervi A ragazzi Che mi guardano Ogni serie streaming Vi ricordo di andare In descrizione Nella sezione live streaming Ed iniziare a seguirmi Sul sito viola Perché stasera Saremo in live Ed iscrivervi E attivare la campanellina Sul mio canale youtube Nel caso non l'abbiate ancora fatto E noi boys Ci becchiamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima